Vendevano casalinghi, articoli d'abbigliamento e accessori senza le dovute garanzie di sicurezza. Nei guai il rappresentante legale di un'azienda cinese per frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti pericolosi e prodotti industriali con segni mendaci. Le fiamme gialle di Bassano hanno perquisito l'attività che si trova nella città degli Alpini e sequestrato 7.516 mascherine irregolari, il grosso delle quali monouso per bambini, sprovviste della certificazione. Le altre avevano apposta la sigla relativa alla certificazione e peccato che fosse stata rilasciata per conto dell'Unione Europea da un'azienda turca con sede principale a Istanbul e una secondaria in Cina. I prodotti certificati con il marchio sono risultati essere i più difettosi e contraffatti. Oltre alla denuncia per l'SRL una sanzione amministrativa di 10.300 euro.